Musica Oggi abbiamo fatto qualcosa di bello a Castiglione del Lago Abbiamo utilizzato le barche dei pescatori e abbiamo utilizzato la musica, il blues Ci siamo sentiti un po' sul delta del Mississippi, diciamo la verità Le persone sono state molto rispettate delle regole Non ci sono stati assembramenti Molto rispetto per quello che è stata un'emergenza Noi ne usciremo così, con grande prudenza e grande consapevolezza Ma l'Umbria... E' stato assolutamente bellissimo Uno spettacolo fantastico Ci voleva dopo un po' di tempo dove siamo stati tutti in casa Sembrava che ormai i concerti non si facessero più Invece questo è stato assolutamente un'innovazione Per fare perché no, d'ora in poi qualche spettacolo al lago Così possiamo stare tutti lontani ma allo stesso tempo vicini E davvero ci voleva